Sono Teresa, lavoro per l'hotel Miramare e sono lo chef del ristorante La Vela. Oggi proponiamo il nostro secondo piatto che è un rombo croccante con carciofi del mulino 700 di cori e messo su una crema di patata al pesto. Abbiamo preso il carciofo, lo abbiamo pulito, l'abbiamo tagliato finemente, l'abbiamo fritto nell'olio extravergine di oliva e questo qui è il risultato. Abbiamo preso delle patate, le abbiamo cotte, schiacciate, abbiamo fatto un pesto alla genovese e abbiamo unito patate e pesto e questo è il nostro rombo che abbiamo acquistato e adesso andiamo a preparare il piatto. iscriviti al canale Grazie.